Tutto pronto? Siamo per le gabbie. Parti! Cavalli della seconda corsa del pomeriggio Dall'interno buona la partenza di Katz Kiss insieme a quella di Natural Wonder anche il frantoio ha colto un buon break all'esterno con la giubba rossa altra che ha fatto la buona partenza è Champion Home of the World poi dietro a questi troviamo Blue Golan, ancora Strong Hunter, Fernando Primero Bridge, Tukabeir a chiudere il drappello dei partecipanti si procede così con un'andatura abbastanza svelta Natural Wonder si è preso definitivamente la testa nei confronti di Katz Kiss con la giubba celeste al suo interno in terza posizione troviamo Champion of my heart in quarta il frantoio, in quinto Blue Golan in sesta con la giubba Maranto troviamo Strong Hunter a precedere Fernando Primero e poi Bridge, Tukabeir in coda a tutti siamo già in dirittura d'arrivo con Natural Wonder il leggero vantaggio rispetto a Katz Kiss percorsi esterne si fa sotto Champion of my heart poi il frantoio, Strong Hunter, Blue Golan e tutto il resto del gruppo tre cavalli che vanno a lottare in questa fase a 400 altra guardo Natural Wonder e ancora davanti nei confronti di Katz Kiss prova a rivenire dal retrovie il frantoio insieme a Champion of my heart e Strong Hunter quando siamo a 250 altra guardo Katz Kiss è passata in vantaggio nei confronti di Natural Wonder tenta la rincorsa per il posto d'onore di Champion of my heart perché ormai per la vittoria è tutto fatto ben sicuri Katz Kiss che emerge nitida nei confronti di Natural Wonder e Champion of my heart Katz Kiss, market mover della corsa va subito a segno Antonio Fresu in sella il training di Sebastiano Guerrieri i colori della GFT ancora Sebastiano Guerrieri a segno con un puledro questa dovrebbe essere la diciassettesima vittoria in stagione per il trainer Diabola qui vediamo Katz Kiss, Pedro Di Gret dopo il secondo posto al debutto ottiene subito la vittoria tre al primo poi fotografia tra sette e quattro per il secondo posto vediamo un po' se questa immagine ci dà l'esatta misura dovrebbe essere Natural Wonder ma chiaramente attendiamo il verdetto del giudice d'arrivo è tutto di Srebrenica che avrebbe essere la dell'esatta la 20re potente da l'esatta che avrebbe raccontato è che avrebbe l'esatta punto che avrebbe